Ciao a tutti da Roberto di Smart Anology, con me c'è Vivo X80 Pro, non è una recensione, l'abbiamo già recensito qualche tempo fa andiamo a vedere in realtà la Funtouch OS 13 con a bordo Android 13 poche le implementazioni di Vivo ma davvero molto interessanti c'è una maggior personalizzazione nella parte estetica, possiamo infatti scegliere un aspetto più monocromatico un aspetto che vada in modo armonioso ad arricchire l'esperienza dell'interfaccia utente prendendo spunto ad esempio dallo sfondo scelto, possiamo avere dei controlli più veloci da raggiungere per l'accessibilità come l'inversione dei colori oppure disattivare i movimenti del sistema per chi ha difficoltà visive, abbiamo anche delle impostazioni per la privacy per andare a nascondere delle immagini quando il telefono è utilizzato da altri e ancora delle opzioni su iManager per andare a gestire il surriscaldamento del telefono o anzi evitarlo e poter accedere alla pulizia del sistema o ancora gestire la batteria e le notifiche abbiamo anche delle impostazioni nel reparto fotocamere per andare ad utilizzare la livella oppure una modifica dei video più approfondita ma non vi dico altro, vi do tutte le informazioni con FanTouch OS 13 e Android 13 subito dopo la sigla Eccoci con Vivo X80 Pro per andare a vedere le novità portate con l'aggiornamento da Android 13 e la FanTouch OS 13, incominciamo subito dalla parte più curiosa, andiamo subito nelle impostazioni, andiamo a vedere in informazioni telefono la versione Android è la 13, gli easter egg è l'orologio che si vede ormai da un po' di tempo. Un dispositivo appena aggiornato, la roadmap proseguirà con l'aggiornamento ai nuovi software entro tutto il 2023, abbiamo appena ricevuto la FanTouch OS 13 con Android 13, vediamo dunque le novità dell'aggiornamento andiamo a parlare subito di personalizzazioni, con Android 13 e sul software di Vivo sono stati introdotti degli accorgimenti per l'estetica, per delle colorazioni monocromatiche, basterà andare a premere sul display, andare su colore interfaccia utente e selezionare l'interfaccia del colore che si vuole, basterà scegliere un colore predefinito e scegliere dei colori di sfondo che possono essere omogenei o in armonia. Con il telefono si può ovviamente applicare il colore anche alle icone. Una volta settato il colore predefinito tutto il sistema o quasi andrà ad avere quel colore tranne alcune icone come vedete i social, Booking, Analytics, Netflix terranno ancora le icone normali. Se andiamo a cambiare sfondo il telefono andrà a prendere uno schema di colori più in armonia con il resto del sistema. Un'altra impostazione relativa alla privacy, possiamo andare a nascondere le immagini che non vogliamo far vedere ad occhi indiscreti, basterà selezionare le immagini, premere sui tre puntini e andare su nascondi. Per andare a ritrovarle basterà andare su le impostazioni, premere su nascosto e ritrovare le immagini che abbiamo invece nascosto. A livello di fotocamere abbiamo una serie di nuove impostazioni. In alto a destra avremo il controllo sull'esposizione con il valore impostato sempre qui in alto a destra e il nome dell'impostazione. Si potrà attivare anche la livella che una volta messo il telefono in modalità landscape indicherà quando è dritto per andare ad avere immagini dritte. Delle nuove impostazioni anche in iManager una volta lanciato potremo ottimizzare il telefono, fare una pulizia, la scansione di sicurezza, gestire il traffico dati, le notifiche delle app oppure andare a strumenti di utilità e andare ad impostare l'atticrittografia delle app, la clonazione delle stesse, la gestione della rete, il raffreddamento del telefono quando la CPU si surriscalda, la gestione della batteria, la modalità ultragioco e l'easy share per andare a condividere i file oppure clonare il telefono. Con un altro telefono ancora fare il backup dei dati. Per quanto riguarda il meteo avremo delle impostazioni che permettono di andare a vedere alcune informazioni molto interessanti sulla qualità dell'aria, non solo sulla qualità dell'aria esterna ma anche la temperatura percepita, la velocità del vento, l'umidità, la visibilità e la pressione e altri dati sull'alba e il tramonto. Delle nuove opzioni anche per l'accessibilità basterà andare nella rispettiva impostazione, se non lo troviamo come al solito possiamo andarla a cercare, basterà andare a vedere tutte le varie opzioni che possiamo attivare, ad esempio chi ha delle disabilità visive potrà andare in colore a movimento e andare a rimuovere le animazioni, possiamo attivare l'inversione dei colori e andare ad attivare una scorciatoia per andare ad invertire i colori ogni volta che si vuole, si potrà anche scegliere di attivare una scorciatoia switch access oppure l'attenuazione extra, il menu di accessibilità può anche essere attivato più facilmente attivando un'altra scorciatoia con pulsanti grandi e ogni volta potremo andare a vedere da qui tutte le impostazioni per l'accessibilità necessarie per chi ha difficoltà visive o ha bisogno comunque di tasti e testo più grandi. A proposito di video, andando in album si può andare a vedere i vari video salvati e registrati, premere su modifica e poter disattivare l'audio su una determinata sequenza o impostare una musica per un determinato segmento. In questo modo si potrà andare a condividere un video completo e finito prima di andare a modificarlo su altre app. A livello di accessibilità sono state aggiunte e migliorate alcune impostazioni come ad esempio una migliore impostazione riguardo all'inversione dei colori che possiamo attivare da qui oppure una scorciatoia per attivare l'inversione dei colori che troviamo qui. Possiamo anche rimuovere delle animazioni per chi ha bisogno di accortezze particolari ad esempio gli utenti con disabilità visive delle varie impostazioni in ambito fotografico come ad esempio l'esposizione. Qui si potrà vedere il valore mentre qui andremo a lavorare sull'esposizione da impostare in fase prima della fase di scatto. Abbiamo dei widget un po' diversi come il Nano Music Player. Potremmo andare a premerlo per andare a controllare la musica, in questo caso Spotify, e poterlo gestire in autonomia oppure anche il player all'interno del dispositivo. Abbiamo questo widget per andare a gestire le impostazioni, l'ottimizzazione del telefono come abbiamo visto prima per migliorarne le prestazioni. Il widget del meteo con tutte le informazioni sulla qualità dell'aria che abbiamo visto poc'anzi e anche gli adesivi personalizzabili con del testo modificabile come si vuole. Ad esempio possiamo scrivere Smart Phonology, scegliere il colore e andarlo a vedere, ma possiamo anche scegliere uno sfondo. In questo caso possiamo mettere questa foto scattata qualche tempo fa in modo da andare ad arricchire ancora di più l'adesivo scelto per il vivo X70 Pro o comunque per il dispositivo vivo con a bordo Android 13 e la Funtouch OS 13. Bene, queste erano tutte le novità sulla Funtouch OS 13 basato su Android 13. Se vi sono piaciute e se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Per qualsiasi altra informazione potete lasciare un commento nel box. Vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da Roberto di Smart Phonology.